ciao a tutti per questo nuovo video di chitarre di un certo livello abbiamo una martin doppio 0 17 s black smoke questa chitarra ha un top in avete sicca e fondo e fasce in mogano è tutta in colorazione nera satinata è amplificata con un sistema fishman matrix vt ascolteremo questa chitarra ripresa con suono naturale da un microfono road nt1 e poi con segnale ripreso direttamente dal suo sistema fishman matrix grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.